E' sabato 22 luglio, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia Gianfrancesco Iacaruso in apertura la politica. Vertice di maggioranza ieri sera per il centrodestra in regione la coalizione che ha vinto le elezioni ha trovato l'intesa per la scelta del nuovo presidente del Consiglio regionale. All'unanimità è passata la candidatura di Quintino Pallante di Fratelli d'Italia al quale nell'ufficio di presidenza si affiancheranno Stefania Passarelli nella veste di vicepresidente e Fabio Cofelice nella veste di segretario. In vista nei prossimi giorni anche l'ampliamento della giunta regionale agli attuali assessori Cefaratti e Marone andranno ad aggiungersi altri due componenti, l'esecutivo, uno in quota Fratelli d'Italia, l'altro in quota Forza Italia. Certo l'ingresso di Salvatore Micone da sciogliere invece la riserva sul nome di Forza Italia che potrebbe essere quello di Andrea Dilucente. Da definire invece la casella relativa al sottosegretario. Ancora grande caldo su tutta la regione con temperature che non accennano a diminuire sia oggi che domani. Campobasso ancora tra le città con il bollino rosso. Diversi i casi di malori sul lavoro dovuto proprio all'AFA. Su questa emergenza interviene la CGL che chiede di intervenire subito sospendendo se necessario l'attività lavorativa e trovando sistemi a tutela delle maestranze. Il servizio è di Enzo Luongo. Mentre l'ondata di caldo eccezionale non concede tregua con le temperature che negli ultimi giorni in regione hanno raggiunto e superato i 40 gradi scoppia un'emergenza conseguente al clima rovente e quella dei malori sul lavoro dovuti proprio al caldo. A lanciare l'allarme è la CGL. Il caldo anomalo delle ultime settimane dice il segretario regionale Franco Spina ha posto il tema della salute e della sicurezza dei lavoratori spesso impegnati in ambienti di lavoro senza sistemi di climatizzazione o direttamente esposti al sole come avviene nei campi agricoli o nell'edilizia. Anche in Molise si sono verificati casi di malessere sul lavoro, aggiunge il sindacalista. Temperature ben oltre i 35 gradi comportano rischi per la salute molto forti ed occorre quindi intervenire per sospendere le attività e trovare sistemi a tutela delle maestranze. Per far fronte a questi problemi nelle ultime ore si è svolto un confronto tra sindacati e Ministero del lavoro a Roma al termine del quale il Ministero si è impegnato sul fronte della certezza sulla richiesta di cassa integrazione in presenza di alte temperature, questo predisponendo quotidianamente bollettini meteo per impse e aziende. La CGL molisana ha sollecitato anche l'attenzione della regione affinché venga attivato un sistema di monitoraggio. Sullo stesso fronte anche la scuola edile del Molisi ha rivolto un appello alle imprese locali affinché prendano tutte le precauzioni necessarie per proteggere i lavoratori dal grande caldo innanzitutto con l'attivazione della cassa integrazione. Torna per il terzo anno Alta Marea Festival del Cinema e Arte a Termoli dal 27 al 29 luglio in concorso, 13 corti arrivati da diversi paesi europei e dagli Stati Uniti che saranno valutati da una giuria di esperti. Oltre al cinema in città si terranno mostre e concerti. La presentazione nell'ufficio cultura del comune di Termoli vogliamo raccontare il cinema contemporaneo in una terra che ha un sacco di storie da raccontare ha detto il direttore artistico del festival Antonio De Gregorio. Ascoltiamo Marta Martino. 13 corti in concorso più un lungometraggio e una giuria composta da Angela Curri, Lia Grieco, Giulio Manfredonia, Maria Rosaria Russo, Chiara Cavalieri, Laura Martinelli, Sara Mondello, Antonio De Gregorio e Francesco Fanuele. Il cinema indipendente di Alta Marea torna protagonista per il terzo anno consecutivo nel Borgo Antico di Termoli dal 27 al 29 luglio. Ideato dal regista Antonio De Gregorio che neanche direttore artistico, il festival rappresenta non solo una carrellata di storie drammatiche o divertenti ma anche una valorizzazione dei giovani e del territorio molisano. Alla presentazione dell'evento Michele Marone alla sua prima uscita come assessore regionale alle politiche giovanili, il consigliere comunale alla cultura Michele Barile, il direttore artistico Antonio De Gregorio e il presidente dell'associazione culturale Alta Marea Ettore Fabrizio. Il festival nato nel 2021 dall'idea di un gruppo di giovani professionisti del settore audiovisivo e artistico con la passione per il cinema e per l'arte proporrà tre serate di proiezioni a cui si affiancheranno mostre e concerti in vari punti della città dando spazio a giovani artisti emergenti. Vogliamo raccontare il nuovo cinema contemporaneo in un territorio antico e pieno di storie da raccontare ha detto De Gregorio. I corti sono stati selezionati tra 150 pervenuti in gran parte dall'Italia, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna. I selezionati concorreranno per vincere i premi dell'edizione 2023. Miglior cortometraggio, miglior attore, miglior attrice, miglior regista, miglior fotografia e infine miglior poster. A valutarli sarà la giuria di esperti. Bene, è tutto per l'informazione. Passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura di rassegna stampa diamo uno sguardo alle notizie presenti sul giornale del Molise. Caldo record, l'allarme della CGL. Malori sul lavoro, intervenire subito, discarica interrata e resti umani nel cimitero di Francavilla. Indagato un isernino, presentato il cartellone dei concerti del Campobasso Summer Festival. Poi ancora gli spettacoli. Dopo cinque anni di assenza torna il Festival Baloma Bikers tra gli ospiti Animals e Nazareth. Passiamo adesso a primo piano Molise. Spoil System, segreteria e Molise Acque. Si cambia, questo è il titolo di apertura. Saltano le prime teste, scrive primo piano. Appena insediata, l'aggiunta licenzia i collaboratori del governatore uscente e costituisce ex novo l'ufficio di staff del Presidente, ma senza bilancio niente professionisti esterni. Avviate pure le procedure per la sostituzione del CDA dell'azienda speciale. Braccio destro di Toma, Santone prepara le valigie. Andiamo invece a centropagina con una fotonotizia. Rifiuti nel cimitero di Francavilla, impresa incastrata da un testimone. L'uomo ha riferito agli inquirenti che sono state interrate anche le macerie del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia. Una vicenda davvero inquietante. Vediamo le altre notizie sempre su primo piano. Campobasso ZTL nel centro storico iter spedito varato il regolamento. Il corso nuovo codice degli appalti tecnici e funzionari pubblici a lezione. Da Campobasso escalation di furti in città, famiglia si ritrova i ladri in casa, hanno utilizzato l'impalcatura. Accadeva 20 anni fa Don Stefano Gorzegno, il prete eroe che salvò un gruppo di ragazzini dalla furia. Delle onde da Civita a Campomarano rassegna da urlo esposte le opere di Gino Marotta, Titina Maselli e William Congdon. Da Termoli, urologo dimissionario, appello a Roberti e Della Porta, ospedale in declino, dovete osare di più. Andiamo in taglio alto per le notizie sportive. Campobasso, dal Fano arriva il difensore Bonacchi. Lunedì partirà il ritiro. Termoli, doppio annuncio, corcione e cappelli nel team basso molisano. Palla canestro, la Magnolia chiude l'organico con la rosso-blu, rientra Zalasroth. E lasciamo la stampa locale e passiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Apriamo con il Corriere della Sera. Zaki, polemica per il no all'aereo del governo. Continua a tenere quindi banco la vicenda di Patrick Zaki. Niente incontri con le autorità, lo sconcerto di Palazzo Chigi, slitta e rientra. Il ricercatore dice piani cambiati. A centro pagina invece due foto notizie che riguardano il maltempo, danni e feriti al nord, AFA al centro e al sud tornado, grandine e fulmini e Milano piomba nel buio. Lasciamo il Corriere della Sera, passiamo alla prima pagina di Repubblica. Il caldo come il Covid, questo è il titolo che fa Repubblica stamattina e si parla di emergenza. Lavoro, allarme del presidente di Confindustria Bonomi, proteggere i lavoratori con la cassa integrazione, smart working come durante la pandemia. Arriva il sistema di allerta, bollini rossi per segnalare condizioni estreme. Lombardia colpita da trombe d'aria e grandinate. Poi, sempre sulla prima pagina di Repubblica, Meloni apre sul salario minimo sia al confronto ma con prudenza. Poi, di nuovo la vicenda di Patrick Zaki. No, al volo di Stato, slitta e rientra in Italia. Amnesty dice gesto di indipendenza ma è polemica. Andiamo avanti con la rassegna stampa e passiamo alla stampa di Torino. Il caro vacanze scolastiche, Valditara dice il ministro, aiuti alle famiglie. Salario minimo assistenzialismo, bufera su Musumeci che ha espresso questa opinione. Landini dice decreto sul caldo. Usciti i calendari, si ritorna a parlare quindi di scuola, si torna sui banchi il 15 settembre. In Europa nessuno come noi. Poi restiamo sempre sulla stampa. Rai Salvini licenzia Saviano dopo il tweet dello scrittore ministro che ha definito Salvini ministro della malavita. E lasciamo la stampa e passiamo adesso al fatto quotidiano. I sindaci PD con Nordio contro l'Unione Europea e Mattarella, scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio, si parla dell'abuso d'ufficio, ignorano i moniti dall'alto per mantenere il delitto. Questo è riferimento ai sindaci. Il reato non torni, dicono. Altro guaio per line che contesta la legge. Ugetti attacca il fatto. Andiamo avanti con la rassegna stampa e passiamo alla prima pagina di Libero. Compagno Zaki datti una calmata, questo è il titolo principale. Schiaffo ai suoi liberatori. Confermato il rifiuto, Patrick non vuole incontrare la Meloni per rimanere super partes, però festeggerà col sindaco PD e la sinistra applaude. Poi a centropagina un focus colpi di calore che si riferisce alla sinistra. Legge Bonelli o sei ecologista o vai in galera, avendo l'accusa il ministro di nazismo e Bottura invece inventa le stragi di Almirante. Lasciamo Libero per passare alla prima pagina del quotidiano romano il manifesto. Migranti, il piano per il lavoro, nel nuovo decreto flussi anche una quota di stranieri con ruoli di manager, imprenditori e artisti. Sono previsti 452 mila ingressi in tre anni per l'agricoltura e il turismo, ma ne servono il doppio. Restiamo sul messaggero a centropagina con la vicenda che riguarda Donna Rumma. Arancia meccanica a casa Donna Rumma. Parigi rapina sciocca al portiere e alla fidanzata. Lui finisce in ospedale. Di spalla poi la vicenda che riguarda la morte del giornalista Andrea Purgatori. Esami interpretati male. Indagati i medici nell'inchiesta. Due luminari di radiologia. I familiari dicono curato per metastasi inesistenti. E lasciamo la prima pagina del messaggero e passiamo a quella del quotidiano comunista. Il manifesto. Così muore un italiano. Questo il titolo che fa il manifesto. Il vaccino nazionale. Reitera funzionava. Rivela ora uno studio. In piena crisi. Covid. Francesco impegno per tutti scrive in apertura il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Zuppi. Il cardinale Zuppi. Politica spesso epidermica e ignorante. Cattolici in campo. Antidoto alle tossine. La tessitura per la pace. Guarda a Pechino. Broglio dei vescovi statunitensi dice il dialogo. Non si fermi l'incontro per gli 80 anni del codice di Camaldoli. Bombardamenti in Ucraina. Polonia in allarme. Vediamo sempre sull'avvenire. Alcol e psicofarmaci. Così l'abuso è legale. Strategia contro le dipendenze. Centrale è l'educazione in questo senso. Lasciamo l'avvenire. Vediamo invece con il sole 24 ore l'informazione economica. Chaos taxi. Il piano del governo. Si parla di trasporti. Tra le soluzioni ipotizzate al Ministero dei Trasporti. Più licenze temporanee. Gualtieri propone di aumentare le auto ma anche la tariffa base. Restiamo sempre sul sole 24 ore. Ita oltre un miliardo di fatturato ma conti sempre il rosso. A Leonardo il 74% dei fondi dell'Unione Europea. 18 piani per 600 milioni. Lasciamo l'informazione economica e andiamo con la Gazzetta dello Sport all'informazione sportiva. In prima pagina la vicenda. Lukaku. Lukaku chiede il perdono dell'Inter. In ginocchio da te scrive la Gazzetta. Romelu vuole tornare ma Zhang alza il muro. Il ruolo della mamma. La rabbia dei compagni. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Poi il caso Donnarumma. L'incubo di Gigio. La notte di terrore. A casa Donnarumma. A Parigi in valia di tre banditi. Legato picchiato e rapinato. Anche la fidanzata in ospedale. Prima pagina del quotidiano abruzzese. Il centro caldo record. Tante chiamate al 118. Questo è il titolo di apertura dell'edizione principale. Pescara. Temperature fino a 42 gradi. La CGL Abruzzo. Dice troppi malori al lavoro. Vediamo poi in taglio alto. Abruzzo verso le elezioni regionali. Nasce il campo largo del centrosinistra. Uniti per vincere dall'Aquila. Malore dopo la chemio. Messina Denaro portato in ospedale nella notte. A centropagina una fotonotizia. Addio al partigiano Alberto Danniballe. Salvò 20 persone. Di spalla. Cerimonia all'Ateneo dell'Aquila. Marzia laurea alla memoria. L'infermiera morì a 29 anni. Vediamo le altre notizie sull'edizione principale del centro. Schianto in motorino. Grave un 15enne. C'è pagatti. Il giovane operato d'urgenza dopo lo scontro. Adesso è in rianimazione. Pescara calcio. Zeiman dice sono rimasto per vincere. Il boemo apre la nuova stagione. L'obiettivo è la serie B. E passiamo adesso alle edizioni locali del centro. Questa è l'edizione. L'Aquila Avezzano. Sulmona. Hacker. La ASL. Ingaggia Severino. L'Aquila. L'ex ministra. Chiamata come avvocato per aiutare l'indagine. Questo il titolo principale. Vediamo le altre notizie su questa edizione. E Aquilana. La PM che dà la caccia ai narcos. La Chioma è nell'antimafia di Palermo. Suo il maxisequestro di 5 tonnellate di droga da Avezzano. Nuovo stadio. Ecco il progetto. La società Biancoverde invia le carte per i lavori al Dei Marsi. Passiamo adesso all'edizione del centro che riguarda i territori di Chieti Lanciano e vasto Movida Violenta. Bullo ha arrestato. Questo è il titolo principale. Chieti ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Un diciottenne accusato di aggressioni. Poi il cartellone degli eventi. Stasera a Lanciano la musica disparagna per la festa mediterranea. Vediamo le altre notizie. Due infermieri aggrediti in ospedale. Lanciano pugni schiaffi e morsi da un paziente in psichiatria. Proteste del nursing da Chieti. L'asilo nido va ai privati. Ferrara dice è una conseguenza del dissesto. No dei sindacati. Vediamo adesso invece l'ultima tra le pagine locali del centro. Quella dedicata al Terramano. Un'altra tappa del Giro d'Italia ai prati. Terramo sarà l'evento clou di un piano da 4 milioni per rilanciare la montagna. Questo il titolo di apertura. Si parla ancora di spettacoli. Il festival. Gabbani, PFM e Albano star dell'estate rosetana. Ancora sulla pagina che riguarda il Terramano. Scoperta finta impiegata delle poste. Castelli chiede soldi a un'attività per far avere rimborsi covid ma la truffa fallisce. Da Giulianova si allarga la zona dei 30 all'ora. Il comune estente il limite di velocità fino alla ferrovia. Lasciamo il centro e passiamo alla pagina abruzzese del messaggero. Intelligenza artificiale per l'auto. Questo il titolo di apertura. L'Abruzzo inserito dal ministro Urso nell'intesa per realizzare componenti con l'intelligenza artificiale. Marsilio dice così l'automotive potrà crescere ancora coinvolta all'università dell'Aquila. Restiamo sempre sulla pagina abruzzese del messaggero. Messina Denaro ricoverato. Protestano gli altri pazienti. L'Aquila all'ospedale blindato per la presenza del boss dopo un malore. Andiamo in regione. Bilancio ok ma preoccupa il debito delle partecipate. Bene si conclude qui la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è per le ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti buona giornata.